Benvenuti alla settima lezione del corso di montaggio video con Adobe Premiere. Sono Fabio Ambrosi e anche quest'oggi cercherò di insegnarvi quello che so sul meraviglioso mondo del montaggio video e in particolar modo di Adobe Premiere. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube, così che possiate tenervi sempre aggiornati sulle nuove uscite, sui nuovi tutorial e venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it dove trovate anche gli articoli delle lezioni che stiamo facendo qui su YouTube. Perfetto, andiamo avanti con le lezioni. Nelle scorse puntate, chiamiamole così, abbiamo visto come creare un nuovo progetto in Adobe Premiere e come lavorare, organizzare la nostra area di lavoro all'interno del software. Abbiamo visto i pannelli, come modificarli, come spostarli, come creare i nostri spazi di lavoro personalizzati. Non vi preoccupate, affronteremo ancora l'argomento dei pannelli a mano a mano che ne avremo l'opportunità durante le lezioni. Quest'oggi andiamo avanti e vediamo quali sono le preferenze, le impostazioni più consone per lavorare correttamente con Adobe Premiere. Anche qui non vedremo tutte le impostazioni che è possibile settare in Premiere. Le vedremo via via che ne avremo l'esigenza nel corso delle lezioni. Oggi però sicuramente vedremo due cose molto importanti da configurare una volta per tutte quando si installa Premiere per la prima volta. Vedremo come gestire la cache multimediale dei file che verranno che vengono importati e vedremo come settare un autosalvataggio che automaticamente ogni tot minuti salva una copia del nostro progetto in maniera tale da non avere brutte sorprese nel caso in cui il software si arresti improvvisamente o il nostro computer abbia delle difficoltà. Sono due impostazioni molto importanti quindi vi consiglio di settare queste due preferenze prima di iniziare a lavorare o comunque assicuratevi che siano impostate nella maniera corretta così che poi in futuro non abbiate problemi di alcun tipo. Facciamo un piccolo passo indietro. Come si accede al menu delle preferenze? Come spesso capita in molti software il menu, l'opzione, il comando per accedere alle preferenze si trova sotto il menu modifica. Scendendo in basso come ultimo opzione trovate appunto scritto preferenze e passando il mouse sopra la scritta preferenze vi trovate questo lungo elenco appunto di settaggi che è possibile personalizzare in Premiere. Vedete che abbiamo la possibilità di impostare diverse cose tipo impostazioni generali, l'aspetto che deve avere il nostro software, alcune impostazioni sull'audio che non vedremo oggi, il salvataggio automatico che invece vedremo oggi eccetera eccetera. Cliccando su una qualunque in realtà delle voci che abbiamo visto prima si accede a questa questa finestra. In questo caso avendo premuto su generali ci troviamo già evidenziato il menu appunto delle impostazioni generali. Come dicevo non vedremo tutte queste impostazioni oggi perché alcune cose le dobbiamo ancora spiegare quindi sarebbe prematuro proprio vederle. spostiamoci direttamente sulla sull'etichetta sul menu salvataggio automatico. Cosa vuol dire salvataggio automatico? Come dicevo prima Premiere ha questa funzione molto importante come in realtà molti altri software che permette di salvare automaticamente una copia del nostro lavoro ogni tot minuti addirittura con la possibilità di salvare il progetto nel cloud Adobe in maniera tale che una copia del vostro progetto sia sempre al sicuro da qualche parte. come potete vedere di default l'opzione salva progetti automaticamente è già accesa. Quindi teoricamente non dovete preoccuparvi di abilitare questa questa opzione. Una cosa che però sicuramente dovete impostare sono i minuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che di default Premiere salva una copia del vostro progetto ogni 15 minuti. Ecco questa per mia esperienza è una soglia un pochino troppo alta perché perché può capitare che voi stiate facendo un lavoro molto importante e in 15 minuti credetemi si possono fare grandi grandi cose. Se malauguratamente il vostro computer ha dei problemi prima che Premiere risalvi una nuova copia ecco voi avete perso il lavoro fatto negli ultimi 15 minuti. Quindi l'impostazione salva automaticamente ogni. Io consiglio però questa è una cosa che sta a voi decidere poi in totale autonomia di impostarla almeno a 5 minuti. Vole a dire che ogni 5 minuti Premiere salva una copia. La voce successiva massimo versioni progetto è di default impostata a 20 e va già anche abbastanza bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che Premiere conserva 20 copie, 20 backup salvati in questo caso 5 minuti e appena arrivato al ventesimo salvataggio il ventunesimo va a sovrascrivere il primo backup. Ok? Quindi sono 20 copie in questo caso mantenute in memoria. Se il vostro progetto non è particolarmente complesso e quindi i file di progetto non occupano troppo spazio potete impostare tranquillamente questa voce anche a 50 o a 60 o a 100 o quello che preferite. È molto comoda questa funzione anche per fare in modo che se avete dei ripensamenti su un lavoro che state facendo e volete tornare indietro nel tempo ad una versione precedente del vostro progetto e avete questo numero alto ecco avete la possibilità di tornare indietro ad una versione di 2, 3, 4, 5, 6 ore precedenti ed è molto molto comoda sicuramente. L'opzione successiva salva progetto di backup in Creative Cloud potete accenderla o non accenderla a vostro piacimento accendendola automaticamente ogni copia che il che premier salverà in automatico del vostro progetto verrà spedita al cloud Adobe non è nulla di di cui dovete preoccuparvi è il vostro cloud quando acquistate una licenza Adobe oltre ai software avete anche uno spazio di archiviazione messo a disposizione da Adobe in cui potete salvare i file che preferite chiaramente è uno spazio limitato però per i progetti è uno spazio super abbondante e in questo modo voi cliccando questa opzione salva progetto di backup in Creative Cloud non fate altro che dire a premier ogni volta che fai un backup del mio progetto salvalo e mandalo anche al mio cloud. Molti potranno giustamente chiedersi ma Adobe dove va a salvare una copia del progetto salvata in automatico dove posso recuperare tutte queste versioni precedenti che Adobe ha salvato per me ogni tot minuti bene la risposta è abbastanza semplice come vi ricorderete quando abbiamo creato il progetto vi ho detto che bisogna inserire un percorso al nostro progetto e in quel percorso Adobe vi avevo già anticipato avrebbe salvato tutti quelli che sono i file temporanei le anteprima i salvataggi automatici eccetera eccetera ecco se voi siete ordinati come ho già detto in qualche lezione fa e avete salvato il vostro progetto in una cartella specifica del vostro computer navigando in quella cartella troverete il file di progetto che è il cuore del vostro progetto stesso e troverete una cartella che viene generata automaticamente da Adobe dove verranno salvati tutti i file di backup ogni tot minuti se avete detto che Adobe deve salvare una copia ogni 5 minuti ogni 5 minuti Adobe salverà qui dentro una copia del progetto la cartella si chiama Adobe Premiere Pro Auto Save adesso c'è soltanto un file perché avevamo dato istruzione ad Adobe di salvare ogni 15 minuti quindi ancora deve generare una seconda copia però vedrete che a mano a mano che terrete Premiere aperto ogni 5 minuti ogni 10 minuti o quanto avete detto voi qui verrà salvata una nuova copia torniamo adesso a parlare delle impostazioni da settare in Adobe Premiere 2019 come avevo anticipato la seconda impostazione che tratteremo quest'oggi è quella relativa alla cache multimediale cos'è la cache multimediale come dice la parola stessa è una cache generata automaticamente ogni qual volta voi importate in Premiere una fotografia un film una musica un audio o un video ok mi spiego meglio per poter fare determinati calcoli in maniera rapida specie quando lavorerete con grandi quantità di file e per poter fare in modo che tutto vada veloce senza intoppi Premiere ha l'esigenza di generare automaticamente alcuni file di appoggio chiamiamoli in questo modo dei file di anteprima questi file di anteprima tutti insieme prendono il nome di cache multimediale sto un po banalizzando ma a grandi linee il senso è questo di default quando installate Premiere per la prima volta questa cache multimediale viene salvata automaticamente dentro la vostra cartella documenti se utilizzate windows se utilizzate il mac onestamente non ricordo quale sia la path di default controllate comunque ad ogni modo c'è una una cartella che viene eletta automaticamente da adobe come la cartella responsabile di ospitare la cache multimediale in windows questa cartella è nella vostra folder documenti ok e questo non è un bene perché perché come abbiamo detto già ne qualche lezione fa è saggio specie se si lavora con piccoli hard disk dedicare un intero hard disk o un'intera partizione al salvataggio dei vostri file multimediali siano essi i vostri progetti siano essi addirittura la cache multimediale quindi sicuramente un'impostazione da modificare appena installato Premiere è quella di modificare il percorso della cache multimediare spostandola in un'altra posizione del vostro computer nel mio caso ho un hard disk ssd che dedico a file di appoggio e a cose del genere in cui ho creato una cartella chiamata media cache e qui dentro faccio puntare tutte le cache generate dai software che che mi interessano in questo caso adobe premiere basta dare il percorso della cartella che volete leggere come la responsabile dei file di cache dare selezione cartella e automaticamente come vedete il percorso cambia da questo momento in poi tutti i file multimediali generati o meglio le cache multimediali generati da premiere verranno inviate a questo indirizzo e lo sconsiglio sconsiglio anche se potrebbe essere pratico ma lo sconsiglio di cliccare di spuntare questa opzione ovvero se è possibile salva i file della cache multimediale queste sono le estensioni accanto ai file multimediali originali è buona pratica secondo me lasciare i file multimediali originali da parte intoccati e intatti per quanto più possibile andando avanti c'è l'opzione per eliminare i file della cache multimediale non utilizzati andate sereni è un'opzione tranquilla non andate a eliminare i vostri file originali andate solo eliminare i file della cache quindi ogni tanto una buona pulizia per liberare spazio perché comunque i file della cache occupano spazio cliccare elimina non utilizzati è un'ottima soluzione per eliminare i file della cache generati da file multimediali sorgenti che sono appunto non più utilizzati ok un'altra e ultima opzione da impostare in questa finestra è quella relativa al database della cache multimediale non entro nei dettagli vedete questo database come una sorta di archivio di indice che adobe genera per sapere dove si trova un determinato file relativo ad un determinato oggetto multimediale non entro nei dettagli il consiglio che posso darvi in questo caso è di far puntare questo database alla stessa cartella ok a cui avete fatto puntare la cache multimediale possibilmente sempre diversa dall'hard disk di sistema le opzioni qui sotto invece sono molto utili perché perché proprio per mantenere un hard disk pulito e per evitare che la cache multimediale vi occupi troppo spazio premiere consente di eliminare automaticamente la cache multimediale se vengono soddisfatti alcuni requisiti per esempio cliccando su elimina automaticamente i file della cache precedenti precedenti a e un numero indichiamo a premiere che i file della cache verranno eliminati automaticamente quando sono trascorsi 90 giorni dalla loro dalla loro generazione l'altra opzione per eliminare automaticamente la questione multimediale è quella che vi consente di eliminare automaticamente i file della cache meno recenti quando la cache supera in questo caso 47 giga cosa vuol dire vuol dire vuol dire che quando la cache diventa troppo grande ecco automaticamente premier elimina comincia a eliminare i file meno recenti ok una sorta di grande contenitore che quando si riempie troppo in base a questa opzione in base a questi giga indicati quando si riempie troppo inizia a svuotarsi partendo dai file dai file più vecchi o queste sono le impostazioni secondo me più importanti altre impostazioni ne esistono ovviamente vedete ce ne sono tantissime tra cui quella di sincronizzare tutte queste impostazioni impostazioni con il vostro account adobe però adesso è inutile vedere tutti questi questi settaggi uno per uno perché molti settaggi riguardano argomenti che ancora dobbiamo trattare quindi sarebbe difficile per me parlare di cose che ancora dobbiamo dobbiamo vedere con calma torneremo qui su questa finestra nelle prossime lezioni a mano a mano ovviamente che se ne presenterà l'opportunità per il momento mi fermo vi ringrazio se vi siete persi qualche lezione precedente andate sul mio canale youtube e c'è la playlist aggiornata del corso di premiere 2019 se volete iscrivetevi al canale così da essere sempre aggiornati ogni volta che uscirà un nuovo tutorial e venite a trovarmi sia sulla mia pagina internet www.fabioambrosi.it dove ci sono gli articoli di queste lezioni sia perché no sulla mia pagina facebook fabio ambrosi vi ringrazio buon proseguimento alla prossima lezione